Ancora un'impennata di contagi in Molise, sono 120 nuovi positivi nelle ultime ore a fronte di un consistente aumento di tamponi refertati 1291, tasso di positività al 9,3%. A testimonianza che il virus circola ovunque, stavolta è Isernia a registrare il numero più alto di contagi, 23 seguono ancora Termoli con 18 e Agnone con 16 casi, 7 i casi invece di Campobasso, 5 di Belmonte e Larino, 4 di Riccia, poi numeri inferiori sparsi un po' ovunque. Tre i decessi, una donna di 73 anni di Termoli che era in terapia intensiva al Neuromed, una 95enne di Campobasso e un'altra donna di 78 anni di Santa Croce di Magliano, entrambe in malattie infettive. Il bollettino dell'ASREM riporta 357 decessi dall'inizio della pandemia. Santa Croce di Magliano è un paese con una situazione molto critica sia sul fronte dei decessi sia dei contagi, almeno 150. Sono 7 intanto i nuovi ricoveri, 1 nell'area grigia del Santimotio e 6 in malattie infettive, 2 i pazienti dimessi dal Gemelli Molise, 2 i trasferiti, 1 da infettivi in rianimazione al Cardarelli e 1 portato in terapia intensiva al Neuromed. Sono 113 in tutto le persone ospedalizzate, 81 sono all'ospedale di Campobasso di cui 14 in rianimazione e 67 in malattie infettive. 14 sono i ricoverati al Santimotio di Termoli, 9 al Gemelli Molise e 9 al Neuromed di cui 4 in terapia intensiva e 5 in subintensiva. Ci sono poi oltre una decina di persone trasferite in altre strutture ospedaliere fuori regione. Terapie intensive sotto pressione in 9 regioni e province autonome italiane, dove la percentuale dei pazienti ricoverati in rianimazione supera o è sulla soglia critica del 30%. Il Molise tra le peggiori con il 49% dei posti occupati, di più solo l'Umbria al 56%. Per quanto riguarda l'occupazione di pazienti covid in malattie infettive la nostra regione al 44%. Da registrare anche 42 guariti nelle ultime ore di cui 14 di Termoli e 9 di Campobasso. Gli attualmente positivi in Molise sono 1829.